chiedo scusa per i panni stesi ma è domenica e quindi io stamattina in fretta e furia ho anche fatto la lavatrice ma soprattutto ho passato l'intera giornata a montare un video che non è il solito video della domenica no 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 non è un vlog è un incontro che ho avuto con una classe di quarta superiore e che ho deciso di registrare pensando che magari sarei riuscita a fare un discorso di senso compiuto che poi avrei potuto usarlo per farci un video ed è esattamente quello che sto facendo nonostante non sono proprio sicura di aver fatto un discorso di senso compiuto infatti avete già letto il titolo del video la cosa interessante però aspetta un secondo la cosa interessante la cosa interessante però è che l'ho montato come monto il podcast ci ho messo praticamente lo stesso quantità di tempo e anche l'ho montato proprio nello stesso modo ed è venuta una roba che dura 40 minuti per cui ho pensato ma perché non fare una puntata straordinaria del podcast in cui questa volta non c'è un ospite ma ci sono solo io che parlo è una bella idea anche perché il podcast è fermo da un po visto che ci vuole tantissimo tempo a montare una puntata del podcast registrarla montarla e siccome in questo periodo sono presa da moltissimi lavori che sono al di fuori della mia sfera di content creator solita e abituale abituale da quando c'è su due anni faccio sta roba come se fosse tutta la mia vita quindi il tempo che ho da dedicare a queste cose diminuisce per quel podcast è fermo da un po non è un'ottima idea farne una puntata del podcast fatemi sapere cosa ne pensate perché la metto in anteprima qua su youtube se poi voi ritenete che sia utile le farò anche una versione audio da mettere sulle piattaforme di podcast questa volta procediamo al contrario edizione straordinaria vi metto anche l'intro e l'altro del podcast così vi fate sapere se se come voi ha senso un puntato straordinario bene grazie e buon ascolto fuori norma dai che devo registrare cosa dai fuori norma su salve e benvenuti a fuori norma un podcast su disabilità autismo malattie croniche e fragilità sociale io sono emanuela un'insegnante educatrice e attrice che ha anche la fortuna di essere disabile autistica e fighissima decisamente fuori norma se anche voi per qualunque motivo vi collocate al di fuori della media statistica o amate qualcuno che lo è questo è il podcast che fa per voi ho deciso di registrarlo anche io cioè dietro questo computer in cui vedo me stessa e vedo voi sopra c'è il mio telefono che mi sta riprendendo e il motivo per cui ho deciso di registrarlo è perché vorrei fare un video su questa cosa da un anno credo e non l'ho mai fatto perché è estremamente complicato estremamente complicato quindi questo per me è un esperimento cioè se mai riuscissi a fare un discorso chiaro potrebbe essere lo spunto per un video si sente parlare di autismo sappiamo che nel dsm è classificato come un disturbo un disturbo del neurosviluppo e quindi ne sentiamo parlare in termini patologizzanti e dir poco però comunque tecnicamente rimane è una diagnosi rimane nel dsm rimane classificato come disturbo ma sentiamo anche parlare di neurodiversità neurodiversità neurodivergenza che hanno questo suffisso neuro che ci riporta un po al concetto di neurotipico che in sostanza è il concetto opposto in qualche modo all'autismo che abbiamo i neurotipici che hanno uno sviluppo neurologico neurofisiologico tipico e poi abbiamo le persone autistiche che invece hanno uno sviluppo neurofisiologico atipico e il fatto che i termini neurodiversità neurodivergente hanno questo neuro in comune in comune ci fa pensare che siano sullo stesso piano cioè che abbiano comunque una matrice medica in qualche modo biologica perché a questo sembra far riferimento il termine neurodiversità hanno una storia completamente diversa e rappresentano due punti di vista sulla questione completamente diversi e quindi la gente confusa diceva scusami allora ma l'autismo è un disturbo oppure è una neurodivergenza è un normale modo di esseri umani altrettanto quanto lo è la neurotipicità come se queste due cose fossero in contrasto l'una con l'altra e quindi spiegare come non lo sono per niente e forse mi spoglierò durante questo video perché è veramente molto difficile io avevo iniziato pensando di raccontare come è cambiata la mia conoscenza dell'autismo nel tempo perché non so se lo sapete io sono un educatrice professionale prima è un insegnante di scienze umane e di sostegno poi nel senso che mi sono laureata con l'ultimo anno della laurea quadriennale come educatrice professionale ho lavorato come educatrice professionale ma poi ho fatto anche una scuola di specializzazione allora c'era una scuola di specializzazioni per l'insegnamento prima per insegnare scienze umane e quindi psicologia metodologia della ricerca sociologia storia della psicologia diciamo così e poi anche mi sono specializzata per il sostegno fatto un semestre aggiuntivo che in realtà è durato un anno perché c'era anche il tirocinio su il sostegno e ho lavorato anche a scuola quindi non posso dire di non essere venuta a contatto con il mondo dell'autismo prima di scoprire di essere autistica io stessa questa è la mia tesina di specializzazione non so se si vede si si intitola le abilità relazionali come fattori di integrazione è una sezione di questa tesina di specializzazione sulla sindrome di asperger e la mia tesi di laurea si intitola hacker e gli hacker sono stati un gruppo sociale nel quale a quanto pare si parlava all'epoca in cui ho scritto io la tesi della sindrome del gic e noi sappiamo adesso che nella silicon valley intorno al mit nella costruzione di internet della rete come noi la conosciamo oggi un ruolo predominante lo hanno avuto persone che adesso possiamo definire autistiche per cui non posso dire di non aver mai sentito parlare ad un certo punto mi è arrivata la diagnosi cos'è sta roba non ho io ho studiato l'autismo ho avuto a che fare con l'autismo ho avuto alunni autistici mi sono presa cura quando ero educatrice di bambini autistici questo chiaramente mi ha creato dei problemi perché io avevo dei metodi anticonvenzionali cioè giudicati anticonvenzionali dalle mie colleghe andavo molto ad istinto chiaramente e quindi quello che facevo non era scritto in nessun manuale che però questa è la realtà del lavoro cioè con tutti i specializi come un educatrice professionale o come insegnante di sostegno si chiama specializzazione ma non sei specializzato in niente perché ogni caso è a sé ogni disabilità con cui avrai a che fare è a sé soprattutto come educatore professionale ti trovi ad avere anche casi di in cui la disabilità non c'entra niente in cui il disagio è tutto e un altro di integrazione sociale per esempio quindi non puoi essere specializzato in tutto e questo è un problema che abbiamo uno uno perché ne abbiamo tanti dei problemi che abbiamo nel sistema scolastico italiano perché se avessimo degli insegnanti di sostegno che si specializzano avrebbero il tempo di studiare di specializzarsi no pensiamo come se tu fossi un insegnante di sostegno specializzato nel sostegno alle persone cieche impareresti il braille impareresti tutti gli strumenti compensativi di che potrebbero servire alle persone cieche e potresti essere chiamato come esperto anche fuori per no ha il tempo di specializzarsi su qualcosa in italia non è così ci sono dei process sono dei contro di questa cosa il pro l'idea con cui questa cosa è stata fatta è che l'insegnante di sostegno l'educatore è in realtà un insegnante della classe l'educatore in realtà il suo lavoro è lavorare non solo con la persona che segue ma con l'ambiente sociale per raggiungere un'integrazione e questo si può fare solo se tu non lavori solo su quella persona ma lavori con l'intera classe per questo motivo qua l'insegnante di sostegno per esempio ha un voto in consiglio di classe su tutti gli alunni anche su quelli che non hanno disabilità perché perché in realtà il fatto di avere un alunno con disabilità nella classe ti consente ti dà l'occasione di avere un insegnante in più con cui lavorare in modi anticonvenzionali in italia ancora si deve dire la scuola è proprio fatta così cioè i metodi di insegnamento sono ancora fermi all'ottocento c'è la lezione frontale i banchi il professore che parla e alunni che prendono appunti non è cambiato niente invece tecnicamente sulla carta dovrebbe essere cambiato qualcosa negli ultimi 150 anni nella scuola e quindi dovremmo avere delle metodologie diverse per fare lezioni e anche appunto per sfruttare la presenza di due a volte anche tre insegnanti in classe quello che sapevo sull'autismo era quello che sanno tutti e cioè che è sì certo non la cosa peggiore la disabilità peggiore che ti potrebbe capitare ma comunque è una disabilità importante perché quello che ci hanno insegnato è che esiste un modo giusto uno sviluppo giusto delle tappe di sviluppo in cui i bambini a quell'età a tre mesi fanno quello a sei mesi fanno quello a otto mesi fanno quello prima sviluppano quello poi sviluppano l'altro il linguaggio si sviluppa in un certo modo c'è prima la lazione poi dopo c'è la produzione di parole intere ma magari ancora sbagliate nella pronuncia poi dopo c'è la costruzione di brevi frasi ma ancora non grammaticalmente adeguate ci sono degli stadi dello sviluppo del bambino e i bambini autistici queste fasi non le seguono quindi quello è il modo giusto di crescere e i bambini autistici crescono nel modo sbagliato cioè non come dovrebbero non è normale come crescono perché normale è come crescono la maggior parte dei bambini questo è quello che ho imparato anche come educatrice professionale il mio grande disagio era che lavorare nelle case famiglia no lavorare con situazioni di disagio sociale quindi anche di povertà mi sembrava che noi ci ponessimo sopra un piedistallo noi che abbiamo una famiglia fatta di un padre di una madre amorevole che ci vogliono bene che hanno i soldi per comprarci le merendine che tutti i nostri compagni portano a scuola siamo sani siamo bravi e abbiamo capito come funziona il mondo e lo dobbiamo insegnare ai poveri che invece non hanno questa fortuna cioè hanno delle famiglie disastrate e quindi non hanno avuto una crescita sana già solo per il fatto che sono poveri sembrava che l'atteggiamento fosse c'è un modo giusto di crescere di avere una famiglia di comportarsi di avere un lavoro e chi non ce l'ha è sbagliato e quindi noi attraverso il nostro lavoro gli educatori di pedagogisti di psicologi agli aiutiamo dal nostro dal nostro punto di sanezza e di giustezza gli aiutiamo a raggiungere questo livello di sanezza e di giustezza non mi convinceva granché questa cosa è uno dei motivi ho iniziato a interrogarmi forse poteva essere il fatto che io sono nata con una disabilità fisica che non ha niente a che vedere con l'autismo che contemporaneamente una malattia cronica un difetto genetico è una disabilità fisica a bomba un culo adesso io continuo a dire per me è un enorme fortuna perché io sono cresciuta sapendo di essere diversa cioè io avevo il nome per la mia diversità che non era autismo era un'altra cosa ma io sapevo di non essere come gli altri era una cosa assodata era un dato di fatto io facevo delle terapie ogni 15 giorni andavo in ospedale andavo a fare la trasfusione ero diversa dagli altri bambini e facevo cose che gli altri bambini non facevano perché erano le mie terapie di cui gli altri bambini non avevano bisogno ero sbagliata ero da correggere o non più di quanto miope ha bisogno degli occhiali miope una persona che non vede bene mette gli occhiali ci vede io non produco emoglobina mi dà il sangue attraverso una trasfusione e io funziono come uno che non ha fatto cioè che non ha bisogno di fare una trasfusione quindi per me questa cosa perché questo è così grave è quell'altra cosa che è tecnicamente un deficit quanti di voi portano gli occhiali sappiate che avete un deficit è un deficit meno vedo quanti gradi ti mancano è tecnicamente un deficit e quindi già c'erano delle cose che non mi cucerano delle contraddizioni che non mi quadravano però i libri dicevano quello gli esperti dicevano quello tutta la società era costruita su così si fanno le cose e così dovrebbero andare anche quelle che non funzionano così sicuramente queste contraddizioni mi hanno messo in crisi più di una volta e è nata in me il desiderio ha avuto anche lì fortunatamente ci sono degli insegnanti che questa cosa la fanno degli insegnanti che mi hanno aiutato a sviluppare lo spirito critico quello che si chiama lo spirito critico cioè mettere in discussione le cose che sappiamo o che crediamo di sapere come per esempio studiando la storia della psicologia mi sono resa conto che la storia della psicologia è una scienza perché molto diversa dalle altre scienze c'è stato nella sua fondazione tutto un tentativo di ricondurla all'esattezza delle scienze dure chiamate le scienze fisiche le scienze matematiche mentre è una scienza che si occupa di fenomeni in evoluzione in cambiamento non solo è anche una scienza che si occupa di studiare tipo la psicologia studia la mente dell'uomo ma è l'uomo che studia la mente dell'uomo quindi insomma l'oggetto di studio è contemporaneamente anche colui che studia è un po non è proprio poi oggi noi sappiamo che anche gli atomi i neutroni si fanno influenzare dal fatto di essere osservati figurati gli esseri umani i bambini in generale la società no che cambia continua a cambiare continuamente e quindi studiando la storia della psicologia mi sono resa conto che di base tranne qualche piccola eccezione la storia della psicologia è fatta da uomini bianchi cis etero no sono tutti questi uomini bianchi cis etero che hanno benestanti perché se sono arrivati ad avere la laurea a studiare sono benestanti hanno interpretato e costruito un sistema in base a se stessi cioè io sono giusto chi di discrepanza da me è sbagliato a iniziare dal fatto che il cervello delle donne pesa di meno se tu fai un'autopsia prende il cervello il cervello di una donna pesa di meno e quindi evidentemente le donne sono meno intelligenti degli uomini questa era la psicologia quando è nata e quindi c'è tutta una un filone noi sappiamo che la nascita della psicologia è intrinsecamente sessista abilista e razzista è nata così è nata con idea di normalità del tutto artificiale e artificiosa che cos'è la normalità cioè se noi iniziamo a pensare che cos'è la normalità un dato statistico cioè la parte centrale di una curva di gauss è un dato statistico fattoriale cioè tu misuri un fattore mettiamo e tu misuri l'altezza media delle persone puoi capire quanto sono alte le persone qual è l'altezza media e questa è una cosa che è stata necessaria è stato necessario fare a seguito della rivoluzione industriale che guarda caso più o meno coincide anche con la nascita delle scienze sociali no quindi le persone iniziavano ad accumularsi nelle città c'era bisogno di in qualche modo organizzare queste persone quindi in qualche modo si è andato di pari passo l'organizzazione del lavoro e lo sviluppo industriale e quindi anche molto banalmente per esempio bisognava fare dei vestiti che nessuno più si cuciva i vestiti a casa bisognava fare i vestiti in serie quindi bisognava misurare le persone capire qual era l'altezza media la stazza quant'era la misura delle spalle quant'era la misura della vita per standardizzare in qualche modo per esempio come tutto il resto anche la produzione degli abiti e quindi si è iniziato a misurare a misurare come era l'uomo medio come era la donna media che non esiste non esiste quale essere umano ha contemporaneamente l'altezza media la larghezza delle spalle medie il peso medio la misura della vita media il rapporto fra la caviglia e il ginocchio nella media l'idea di normalità è del tutto artificiale non esiste e il concetto che normalità significhi giustezza anche quello non sta scritto da nessuna parte è una attribuzione di significato dovuta al fatto che praticamente tutte le scienze in quel momento in cui si stavano sviluppando erano in mano a una certa categoria di persone non a tutte quanti nella storia della psicologia quanti psicologi facciamo maschi etero cis neri vi ricordate piace che è diventato famoso con gli stadi dello sviluppo del bambino ha sicuramente un peso ancora oggi pensate sono passati più di cent'anni piaceva un sacco di figli e quindi nei suoi pomeriggi ad osservare i figli crescere si è reso conto che il primo figlio aveva iniziato a mettere i primi passi a quell'età dopo tutt'otto mesi e aveva iniziato prima a gattonare e poi si era grappato alle tende aveva iniziato a camminare aggrappato alle cose sempre a quell'età e il suo secondo figlio stranamente o aveva seguito le stesse tappe di sviluppo incredibilmente il terzo figlio ha seguito le stesse tappe di sviluppo può essere che questi bambini avevano lo stesso dna crescevano nello stesso ambiente avevano lo stesso tipo di educazione com'è che non è venuto in mente a nessuno che questo tipo di osservazioni fatti su bambini che provenivano dallo stesso substrato culturale e che in molti casi come nel caso di piaget condividevano anche un certo patrimonio genetico come che queste cose non potessero essere nella misura dello sviluppo tipico di tutta la popolazione mondiale da allora sono stati compiuti notevoli passi avanti per cercare di rimediare mi sembra che siamo ancora molto lontani da rimediare ma cercare di allargare la prospettiva diciamo così chiaramente c'è anche un altro problema cioè perché nel momento da quando viene c'è un'edizione del dsm o viene come si dice stilato un documento dell'organizzazione mondiale della sanità significa che anche lì c'è un gruppo ristretto di persone che sono selezionate che formulano questo documento ma da quando questo documento è formulato a quando avviene un reale cambiamento sociale nella popolazione passano anni e passano anni anche perché i professionisti perché c'è no l'organizzazione mondiale della sanità l'equip che si occupa di stilare le linee diagnostiche le linee guida il dsm l'icf l'icd liberetti ttri quelli sono gli esperti degli esperti la creme della creme che si occupa solo di quello poi ci sono gli altri specialisti che invece si occupano delle persone che hanno un anno di laurea si sono laureate in un certo anno anno ad un certo punto sto velatamente facendo riferimento all'autore del vostro libro hanno raggiunto il successo ad un certo punto della loro carriera sono diventate persone come si può dire autorevoli ad un certo punto della loro carriera è molto difficile che queste persone tornino sui banchi di scuola mettano in discussione le cose che hanno studiato fino a ieri e dicano scusate no ho cambiato idea adesso no non è più così questo è quando studiato io adesso le cose sono diverse non mi sembra un'abitudine neurotipica molto diffusa questa per cui prima che i cambiamenti a livello concettuale che vengono no da sempre il gruppo ristretto di persone fino a che vengono trasferite alla popolazione generale passano molti anni oggi grazie a di abbiamo titto tic toc funziona così stiamo rovesciando e lo stiamo rovesciando grazie a internet che è stato creato da maggioranza da persone artistiche buttata lì questa così nel 1980 l'organizzazione mondiale della sanità ha scritto un documento che si chiamava international classification of impairment disabilities and handicap nel 1980 è un documento molto importante perché per la prima volta si tenta di uscire dal modello esclusivamente medico della disabilità in cui fa una distinzione molto netta fra ciò che è la menomazione o il deficit e quello che è l'handicap il deficit o la menomazione è il danno fisico quello di cui parlavamo all'inizio quando io vi dicevo il mio corpo non produce emoglobina devo fare le trasfusioni quella è la parte fisica individuale dell'handicap della disabilità e poi c'è l'handicap l'handicap è invece la parte sociale della disabilità quanto sei disabilitato dalla società come abbiamo fatto l'esempio degli occhiali avere bisogno degli occhiali non è una disabilità perché manca l'handicap molto semplicemente però ragazzi manca l'handicap oggi qua in italia manca l'handicap manca l'handicap in australia nei paesi sviluppati e nord del mondo in quanti paesi ancora prima di avere gli occhiali di avere un deficit importante perché non è così facile per tutti avere assistenza sanitaria e avere occhiali accessibili a tutta la popolazione penso a paesi estremamente popolosi con grandissime aree rurali come l'india ci sono zone del mondo in cui se ti manca un certo numero di gradi hai anche una disabilità perché ti disabilita perché nel fare le cose di tutti i giorni non hai la possibilità hai bisogno del sostegno degli altri e chiaramente questo ti dà dei limiti individuali ma ti dà anche dei limiti perché perché non ti scelgono per lavorare puoi lavorare meno degli altri hai bisogno di aiuto degli altri per fare le cose tue ha delle ricadute anche a livello sociale questo e questo è molto importante da capire specialmente quando parliamo di disabilità in cui l'aspetto sociale cioè la parte di handicap è molto grossa come nel caso delle disabilità relazionali come nel caso dell'autismo dove questa è la domanda dove finisce la menomazione dove finisce il deficit dove inizia la disabilitazione sociale nella domanda a cui io non vi darò una risposta perché la risposta non c'è questa è la cosa difficile nel cambiamento della visione dell'autismo ma in realtà nel cambiamento della visione della disabilità ad un certo punto ad avere qualcosa da dire non erano più solo gli esperti ma hanno iniziato a muoversi i movimenti di autorappresentanza che uno diceva ma come dovrebbero essere secondo il nostro discorso di prima secondo quello che ci hanno insegnato dovrebbero essere quelli meno capaci ed è proprio per questo probabilmente che queste persone che si sono stufate di essere ritenute meno capaci e hanno iniziato ad alzare la voce basta che si parli di noi come se non fossimo in grado come se noi non sentissimo come se non fossimo capaci di intendere di volere abbiamo voce in capitolo anche noi abbiamo voce in capitolo e vogliamo parlare e vogliamo dire la nostra di che cos'è di che cosa significa e di come queste etichette influiscono sulla nostra vita infatti la cosa interessante da sapere sarebbe se tutte queste cose che ci accomunano fra persone autistiche che tendiamo a riconoscerci fra noi e a fare comunità se tu guardi bene sono tutte esperienze che in qualche modo sono anche collegabili al fatto di sentirsi diversi dagli altri di essere giudicati sbagliati di essere giudicati di aver bisogno di correzione di essere invalidati fin da piccoli perché quello che sentiamo come lo sentiamo non è come sentono gli altri anche qui gli studi sono cambiati e si sono evoluti tantissimo adesso noi quando guardiamo agli articoli di giornale agli convegni alle cose che parlano di autismo li vediamo tutti sullo stesso piano c'è gli psicanalisti che pensano ancora che sia a causa della madre frigorifero e che quindi il modo in cui i bambini vengono cresciuti influenza il fatto che poi diventano autistici c'è chi pensa che il problema siano i vaccini c'è chi pensa che i problemi siano i social c'è queste queste teorie sono tutte sullo stesso piano ma in realtà sono momenti diversi dello sviluppo della comprensione dell'autismo la cosa interessantissima è che spesso non non si non si sa a tal punto che gli stessi studiosi hanno cambiato idea nel tempo quindi tu magari aderisci a un'idea dell'autismo che non è più neanche dello studioso che l'ha elaborata perché lo studioso che l'ha elaborata nel frattempo si è evoluto e ha capito altre cose e invece quella visione è rimasta cristallizzata in quel modo lì e a te ti sembra più plausibile vi faccio l'esempio della sindrome di asperger o di asperger la sindrome di asperger non l'ha coniata asperger asperger parlava di autismo e poi uno va di lui di lui diceva autismo ad un certo punto nel 1981 lorna wing ha deciso che però aveva un bisogno di distinguere le persone autistiche che parlavano e avevano un'intelligenza tutto sommato accettabile mettiamola così perché anche lì non abbiamo più capito dov'è questo limite per cui se asperger e dove questo limite per cui non sei più asperger se autistico infatti non c'è completamente aleatorio per questo motivo poi alla fine l'hanno tolto comunque è stata lei a coniare sindrome di asperger e poi ha cambiato idea ed è la stessa identica persona che ha coniato il termine spettro autistico capite bene che la classificazione la divisione no allora quest qui è questo è autismo grave questo è autismo lieve questo è caduta completamente ma anche perché le persone che lavorano e io ne ho incontrato parecchie con le persone autistiche da 30 anni che ne hanno conosciuto tantissime che ne hanno conosciuti bambini diagnosi precoci fino ai nonni perché ormai si sa che c'è una componente genetica quello che dicono è che hanno tutti cioè si sta cercando di capire quale questo core dell'autismo perché abbiamo tutti delle cose in comune pur essendo estremamente diversi gli uni dagli altri quindi c'è qualcosa che noi chiamiamo il neurotipo in comune che cos'è e quali sono i confini di questa qualcosa che abbiamo in comune anche perché questa è una domanda a cui io non vi darò la risposta perché ancora oggetto di ricerca ci sono chiaramente delle caratteristiche che ti permettono di essere diagnosticato e quindi avere un numero di caratteristiche che si presenta con una certa intensità e che permangono nel tempo si manifestano da piccoli e permangono nel tempo perché anche questa è una cosa l'autismo non scompare nasce autistico muori autistico sembra che gli autisti ci sono solo bambini poi dove vanno se autistici non si si sa prima che l'aggiornamento arrivi a pioggia ai professionisti che lavorano tutti i giorni con le persone autistiche e che stanno magari anche iniziando a lavorare adesso e quindi non ce li hanno quei 30 anni di esperienza nel frattempo le cose al vertice cambieranno ancora perché gli studi continueranno a progredire e continueranno a cambiare quindi è un estremamente complicato l'autismo è o non è una disabilità e qui dipende anche lì dipende da quanto le caratteristiche autistiche influiscono sul normale svolgimento delle tue attività quotidiane voi capite bene che il mio normale non è il tuo normale non è il normale di una persona che abita in un paesino disperso della sardegna rispetto a uno che fa l'avvocato a milano e la disabilitazione sociale non può essere la stessa così come io se io con le mie caratteristiche cioè con le caratteristiche che erano evidenti quando io ero piccola nascessi ora a parte che non avrei le stesse caratteristiche perché il mondo è enormemente più sovrastimolante di quando sono nata io ma mettiamo anche che avessi proprio le stesse proprio gli stessi comportamenti io sarei immediatamente segnalata per quello che sappiamo adesso dell'autismo e avrei avuto un insegnante di sostegno dalle elementari probabilmente o forse no avrei avuto un educatrice domiciliare perché invece a scuola andavo bene avrei avuto un qualche tipo di sostegno probabilmente e come questo tipo di sostegno avrebbe influito sul mio sviluppo forse dipende anche dal tipo di sostegno è un tipo di sostegno che mira a correggermi che mira a neurotipicizzarmi o è un tipo di sostegno che tiene in considerazione il mio funzionamento perché tutto il problema qua e qui per quello alcuno mi dice ma scusa ma se fosse una patologia che problema ci sta niente io ce l'ho la patologia che problema ci sarebbe a parte il sanismo c'è abilismo il sanismo a grassofobia l'uomo lesbo transfobia ce ne abbiamo tante uno il sanismo a parte questa cosa che l'importante che sei che sei sano c'è tutta sta roba qua del sanismo ma a parte che come vista la malattia che vabbè tanto anche l'autismo anche la disabilità non è che sia vista meglio il problema è distinguere qual è il normale funzionamento autistico da invece uno sviluppo disfunzionale da invece un vero disagio che non dipende dal fatto che tu sei autistico di dipende da altro cioè se tu hai un bambino un bambino con disabilità intellettiva è chiaro che se la disabilità intellettiva si innesta su una base autistica si manifesta in maniera completamente diversa che se si innesta su una base neurotipica ma è importante non confondere l'autismo con la disabilità intellettiva perché tu non devi andare non puoi andare a correggere oa compensare il funzionamento autistico devi andare a sostenere e correggere compensare i deficit che non sono distinguere questa cosa è molto difficile ed è molto difficile perché ancora non abbiamo fattori di benessere delle persone autistiche non abbiamo studi su com'è lo sviluppo autistico sano sappiamo che esistono persone autistiche che non hanno il disturbo perché hanno un euro funzionamento di base autistico vengono chiamati a seconda misti oppure subclinici perché hanno le caratteristiche autistiche ma queste caratteristiche non hanno frequenza e intensità tale da disturbare cioè da creare un impedimento nel normale anche lì svolgimento delle attività quotidiane e dello sviluppo del di una vita normale anche lì boh che cosa vorrà dire non si sa io personalmente ritengo che la differenza sta nel fatto che ti disturba cioè anche lì la depressione la depressione disturbo sì perché mi disturba io lo sento che mi disturba cioè disturba le mie azioni quotidiane disturba i miei progetti per il futuro disturba è la stessa cosa per me è l'autismo disturba è un impedimento e dove anche lì l'impedimento che deriva dalle mie caratteristiche autistiche e dove l'impedimento arriva dall'intrecciarsi delle mie caratteristiche con gli altri vi consiglio di cercare su wikipedia il problema della doppia empatia il ricercatore che dirige un istituto di ricerca se non sbaglio a cambridge è casualmente anche autistico il problema della doppia empatia spiega esattamente questo cioè l'empatia cos'è la capacità di mettersi nei panni degli altri ma quando noi ci mettiamo nei panni negli altri siamo in grado di farlo perché diciamo se io mi trovassi in quella situazione come mi sentirei allora capisco come si sente non abbiamo bisogno di vedere la persona piangere sappiamo che se ti è morto il gatto sei triste perché se mi morisse il gatto sarei triste non ho bisogno di vederti piangere per sapere che sei triste il problema con le persone autistiche è che essendo che abbiamo un modo diverso di percepire il mondo percepire il mondo significa ricevere i dati sensoriali quindi classificarli quindi dargli senso e quindi restituire input elaborazione output diverso dalle persone neurotipiche è difficile mettersi nei panni delle persone neurotipiche perché non funzionano come noi e questa cosa avviene al contrario quindi le persone neurotipiche hanno difficoltà a comprendere le motivazioni le emozioni le reazioni delle persone autistiche perché se loro fossero nella stessa situazione non proverebbero quello e non reagirebbero così un problema cane gatto non so se cioè se il cane scodinzola è felice ma se scodinzola il gatto è minaccioso una cosa un po così ma questi sono studi che sono stati fatti negli ultimi anni cioè negli ultimi trent'anni la visione dell'autismo è cambiata completamente sono sicura che in tutto questo discorso mi sono persa un sacco di cose che avrei voluto dire per esempio quali sono queste caratteristiche dell'autismo che vengono mal interpretate e perché io non mi sono riconosciuta non mi sono riconosciuta perché sono sempre state descritte dall'esterno quindi se io prendo adesso la mia tesina di specializzazione leggo le cose che ho letto che sono scritte come le persone con sindrome di asperg hanno questo questo fanno quello fanno quell'altro per me non sta parlando di me facciamo un esempio quando si parla di rigidità autistica la rigidità autistica io passo le giornate a chiedermi come sia possibile che le persone neurotipiche vedano la rigidità in noi e non riescano a rendersi conto della loro rigidità perché i miei occhi sono loro ad essere rigidi ad avere difficoltà a mettere in discussione le cose che sanno a fare le cose diverse provate a togliere il caffè allora ma io sono sicura che avete qualcuno a casa madre padre fidanzato magari anche una delle vostre insegnanti provate a far iniziare la giornata senza caffè e vedete che differenza fa e no abitudinari perché secondo voi come li vedo io i neurotipici solo che la qualità è su su altre cose su cose che sono diverse da quelle che sono le nostre cose che cosa fanno per rilassarsi aperte che non si rilassano di grossissimi problemi a rilassarsi le persone neurotipiche hanno dei grossissimi problemi nell'elaborazione delle proprie emozioni ma siamo noi che veniamo giudicati incapaci di gestire le nostre emozioni e anche qui c'è un presupposto di base sbagliato non si possono gestire le emozioni l'unica cosa che puoi fare è gestire la tua reazione all'emozione perché l'emozione non la comandi tu e così non lo so le stereotipie i movimenti affinalistici ma affinalistici perché li stai guardando tu che per te non hanno senso per me hanno senso per me che li faccio non senti assicuro giuro e tu però me li descrivi affinalistici è chiaro che io non mi riconosco perché per me invece hanno senso e tutto questo gioco di rimandi sei visto dall'esterno sempre descritto dall'esterno sempre descritto da qualcuno che ha i propri parametri di interpretazione del mondo e siamo talmente abituati siamo cresciuti in questo mondo così siamo cresciuti pensando che a quell'età i bambini camminano a quell'età i bambini parlano i bambini prima di parlare in frasi complete fanno l'allazione ci sono degli stadi che chiaramente i genitori si preoccupano ma non è così che si sviluppa un bambino autistico e la cosa interessante sarebbe proprio capire invece qual è il sano sviluppo di un bambino autistico proprio per capire quando perché da lì e da quella discrepanza quella è la cosa interessante quando si quando qualcosa non va secondo però i parametri di uno sviluppo che tu prendi dai per scontato che sia già atipico questa visione è cambiata tantissimo per esempio nei confronti dell'ecolalia l'ecolalia erano dei delle ripetizioni di parole fuori contesto e e ha finalizzate cioè i bambini autistici anche io quando ero piccola io non ho imparato non ho mai fatto la fase della l'allazione saltata completamente pari passo parlano per frasi intere copiate da qualcosa e si pensava che fossero completamente fuori contesto finché non è arrivato un certo tizio che si chiama berri prisa o prisa dipende da che pronuncia io non so pronunciare niente chi ha iniziato a studiare l'ecolalia e si è reso conto che l'ecolalia ha tantissime funzioni una delle quali è la quella fondamentale comunicativa i bambini ecolalici stanno comunicando chiaramente è un codice che bisogna conoscere per poter decodificare ma non vuol dire che non stiano comunicando e se tu gli sopprimi l'ecolalia gli stai sopprimendo il loro naturale modo di sviluppare il linguaggio è la cosa interessante che le ricerche inizino a dirigersi anche in quella direzione oltre a cercare le cause genetiche per ucciderci nel grembo materno prima che nasciamo che questa insomma cosa che non credo che sia così facile da fargli smettere di cercare però vabbè se potessimo studiare anche altro grazie ci farebbe piacere basta io posso andare avanti a parlare così per ore questo è tutto per oggi spero che la puntata vi sia piaciuta se viva fatemi sapere che cosa ne pensate cercatemi su instagram e facebook come emanuela masia o potete seguire i link ai miei account social che sono nelle note dell'episodio vi ricordo che il podcast è ideato diretto e prodotto da me e che se volete sostenere il mio lavoro potete farlo al prezzo di un caffè seguendo il link in descrizione io vi do appuntamento al mese prossimo per una nuova puntata e vi auguro una buona giornata